Buonasera amici di calciomercato.com ormai manca veramente pochissimo a quella che è la partita più importante dell'anno per l'Inter e per la Lazio. Questa sera ci si gioca la Champions, noi di calciomercato.com siamo venuti qui allo stadio olimpico ovviamente per raccontarvi la partita. L'Inter ha da pochi minuti, anzi da pochi secondi lasciato l'albergo proprio per venire qui allo stadio e per quanto riguarda la formazione sappiamo che era un po' quella annunciata. Poi tra poco arriveranno anche le ufficiali ma sappiamo benissimo che in porta ci sarà Samir Andanovic mentre in difesa ha recuperato Miranda accanto a lui. Ci sarà come al solito Skriniar sulle corsie laterali a destra Cancelo, a sinistra D'Ambrosio mentre a centrocampo accanto a Brozovic ci sarà Vesino. I tre dietro Icardi saranno come sempre Candreva da una parte, Rafinha in mezzo e Perisic a sinistra unica punta appunto scusate il gioco di parole. Mauro Icardi che proprio questa sera si gioca con Ciro Immobile ha anche la possibilità di diventare capocannoniere del campionato italiano. Sarebbe la seconda volta per Mauro Icardi ma la prima volta ha diviso questo titolo con Toni. Questa sera vorrebbe tenerselo tutto per sé ma al momento lo sapete benissimo è a un solo gol da Ciro Immobile. 29 gol in Laziale, 28 l'interista. Voi rimanete collegati su calciomercato.com perché seguiremo l'evento, seguiremo la partita, seguiremo il post partita. Saremo con voi fino a notte fonda per raccontarvi come è andata e chi l'anno prossimo tra Inter e Lazio si giocherà la Champions.